Un cordiale saluto a tutti voi, gentili amici, siamo ormai alla sesta puntata di questa trasmissione che l'emittente Radio Cari si dedica all'approfondimento, alla presentazione dell'importante documento di Papa Francesco a Moris Letizia sul matrimonio e sulla famiglia. In questa sesta puntata ci soffermeremo sulla prima parte del capitolo quarto che è intitolato l'amore nel matrimonio. Vi preannuncio che a questo capitolo dedicheremo più di una puntata sia perché il capitolo è particolarmente lungo, è il capitolo sicuramente più lungo dei nove capitoli di cui è costituito il documento papale, sia perché non solo è lungo ma è anche particolarmente ricco questo capitolo, il che dà ragione di quella considerazione che io facevo nella primissima puntata e cioè che sarebbe del tutto errato considerare l'amore e seletizia soltanto per quelle parti che trattano delle questioni pastoralmente più delicate come quella dei conviventi o dei divorziati eccetera. Questa visione riduttiva del documento pontificio va del tutto evitata perché la Moris Letizia è un documento molto ricco e lo testimonia proprio questo quarto capitolo in cui il Papa, pensate, utilizza il famoso inno alla carità di San Paolo contenuto nella prima lettera ai Corinti al capitolo 13 per fornire una riflessione quanto mai ricca sul ruolo che l'amore ha nel sacramento del matrimonio. Allora ecco in estrema sintesi quelle che sono alcune delle suggestioni fornite da Francesco in questo documento. San Paolo come ricorderete nell'inno alla carità inizia dicendo che la carità è paziente e certamente l'amore fra due coniugi dice il Papa è chiamato ad essere anzitutto paziente perché è perché prende atto del fatto che l'amore, la relazione affettiva non è mai idilliaca, è sempre faticoso accettare l'altro nella sua diversità. Anche se un uomo e una donna si sposano rimangono due persone distinte, due persone che possiedono ognuno la propria personalità, il proprio carattere, il proprio vissuto. È sempre difficile specialmente nei primissimi anni di matrimonio mettere insieme queste due persone. È inevitabile che ci siano tensioni, oserei dire e perfino salutare che ci sia anche qualche litigio. Non esiste una relazione coniugale del tutto priva di litigi, di tensioni idilliaca appunto come dice Papa Francesco. E tutto questo, questa consapevolezza richiede che ci sia tanta pazienza nell'amore coniugale. In secondo luogo il Papa dice la pazienza non è un atteggiamento soltanto passivo, quasi che si trasformi in una sorta di rassegnazione. La pazienza deve essere anche un atteggiamento attivo, un atteggiamento che si rende attivo nella benevolenza. Allora l'amore è paziente ma l'amore è anche benevolente. Che cos'è la benevolenza? La benevolenza è volere il bene della persona amata senza esigere nulla in cambio. E questo, credetemi, è difficilissimo. Cioè fra due sposi ci deve essere quasi una gara a volere il bene dell'altro più del proprio. Quindi la benevolenza è superamento di egoismo, la benevolenza è donazione all'altro e attenzione a promuovere il bene dell'altro. E tutto questo in maniera gratuita, senza nulla aspettarsi dall'altro. Guardate che questa è una cosa difficile. Questo è più facile che si realizzi nel rapporto con i figli, perché certamente due genitori vogliono il bene del figlio più del proprio e lo vogliono in maniera del tutto gratuita, cioè senza nulla aspettarsi dal figlio. Anzi, purtroppo tante volte non c'è nemmeno la gratitudine da parte dei figli. È più difficile che questa benevolenza si realizzi nel rapporto tra marito e moglie. Però, ecco, l'amore coniugale, oltre che paziente, deve essere anche benevolente. In terzo luogo, sempre seguendo l'inno alla carità di San Paolo, il Papa dice che l'amore non è invidioso, perché ci fa uscire da noi stessi, perché ci fa nutrire un sincero apprezzamento dell'altro e del diritto dell'altro alla felicità. Un marito dovrebbe essere felice di tutte le qualità che ha sua moglie e delle aspirazioni che sua moglie ha per realizzarsi nella vita. E la stessa cosa deve fare una moglie nei confronti del marito. L'invidia è una serpe velenosa, è una serpe che avvelena i rapporti affettivi, anche quelli tra marito e moglie. Poi, sempre seguendo l'inno Paolino, il Papa Francesco dice che chi ama non si vanta e non si gonfia, perché parlare troppo di se stesso significa considerarsi più grandi di quello che poi si è in realtà. Uno dei mali che può attanagliare la vita di una coppia è appunto il tronfio orgoglio da parte di uno dei due, che si ritiene perfetto, che si ritiene depositario di tutta la verità e che vuole del tutto assoggettare l'altro. Questo certamente è negativo. Ancora, la carità coniugale poi si deve modulare, scrive il Papa, sulla amabilità. L'amabilità che consiste nel non essere rudi, nel non essere scortesi, nel non essere invasivi, ma nello sforzo di essere delicati. Non sempre, ahimè, c'è nel rapporto tra due coniugi questa delicatezza, questo rispetto del recinto sacro che c'è in ogni persona, questo rispetto dell'anima di ogni persona, di quel centro, del centro, del centro che non è da invadere da parte di nessuno. Ancora, l'amore non cerca il proprio interesse, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinti e il Papa riprende questo concetto. L'amore non cerca il proprio interesse. Qui il Papa cita San Tommaso d'Aquino, il quale affermava, giustissimamente, che è più proprio della carità voler amare che voler essere amati. Certamente in ognuno di noi c'è sia il desiderio di amare, sia il desiderio di essere amati, ma altrettanto certamente l'amore nella sua gratuità non cerca il proprio interesse. L'amore è tale se supera, per così dire, questa soglia, questa barriera e direi anche questo limite di cercare il proprio interesse, perché l'amore deve essere gratuito. Non esiste nella logica dell'amore il dire se tu mi ami anche io ti amo, se tu non mi ami neanche io ti amo. No, l'amore vero, autentico, dice anche se tu non mi ami io ti amo. Io cerco il tuo interesse più del mio. Ancora l'autentico amore tra due sposi non si indigna, scrive Papa Francesco, ma si apre sempre al perdono e questo perdono può essere facilitato dal guardare alla misericordia di Dio nei nostri confronti, quella misericordia che ci aiuta a perdonare noi stessi affinché a nostra volta possiamo perdonare l'altro che magari ci ha potuto offendere. Se io sperimento sulla mia pelle quanto è grande la misericordia di Dio, quanto è grande il perdono di Dio nei miei confronti, questa sperimentazione mi consentirà di essere capace di perdonare anche l'altro. Quante volte Dio mi ha perdonato? Tante. E altre tante volte io devo essere in grado di perdonare l'altro e di ricominciare da capo. Uno dei frutti dell'amore, continua a Papa Francesco, è quello di gioire per il bene dell'altro, gioire per il bene dell'altro. Qui si riprende il concetto della invidia, l'amore non è invidioso e se non è invidioso gioisce del bene dell'altro. Scrive al numero 109 il Papa, questo è impossibile per chi deve sempre paragonarsi e competere anche con il proprio coniuge, fino al punto di rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti. Come è possibile che un coniuge si rallegri dei fallimenti e degli insuccessi dell'altro coniuge? Qui siamo già veramente sulla strada sbagliata, no? Invece l'amore deve gioire per il bene dell'altro. Dice il Papa al numero 110 in famiglia si deve sempre far festa per chiunque faccia qualcosa di buono. Se uno dei componenti della famiglia ha un successo, realizza una cosa buona, questo deve produrre gioia in tutti i componenti della famiglia. E poi l'ultima parte di questa parafrasi dell'inno alla carità Paolino il Papa la commenta in maniera magistrale. Ricordate che l'inno Paolino si chiude con queste espressioni, la carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E così deve essere anche l'amore tra due sposi. Anzitutto deve essere un amore che tutto scusa. Riuscendo a limitare il giudizio sull'altro coniuge c'è sempre la tentazione di giudicare l'operato dell'altro, no? C'è sempre la tentazione di sottolineare gli errori dell'altro. Bisogna invece, dice il Papa a riuscire in un rapporto coniugale a mantenere anche il silenzio, a saper parlare bene dell'altro e a saper tacere per non danneggiare l'immagine del coniuge. Quasi quasi qualcuno ci prende gusto invece a danneggiare l'immagine del proprio coniuge. In pratica scrive il Papa al numero 113, l'amore convive con la imperfezione, la scusa e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. Basterebbe pensare che nessuno di noi è perfetto e quindi nessuno di noi può giudicare l'altro. Deve, anzi, tante volte saper tacere. Una saggia regola dice che quando non si può proprio parlare bene dell'altro almeno si dovrebbe tacere. Ecco, questa è carità. Ancora l'amore tutto crede, cioè l'amore impone in qualche modo di fidarsi dell'altro. Il coniuge non va, scrive il Papa, né controllato né posseduto né gravato di continui sospetti. Perché questo uccide l'amore. Il pretendere di possedere l'altro, di controllarlo in tutto e per tutto, di caricarlo dei propri sospetti, è già la strada maestra per giungere alla distruzione del rapporto. Quando non c'è fiducia reciproca, quando si vive in questo clima di tensione costante e di sospetto, è evidente che si è imboccata una strada molto pericolosa. Ancora l'amore tutto spera, perché fa leva sulla speranza escatologica, la speranza che si fonda sulla risurrezione del Cristo e sulla trasfigurazione del Cristo risorto e che permette di contemplare il coniuge, scrive Papa Francesco, non solo nelle sue inevitabili imperfezioni, ma con uno sguardo soprannaturale che fa vedere la presenza di Dio nella persona del coniuge, che fa vedere le sue qualità più che i suoi difetti, i suoi aspetti positivi più che quelli negativi. E infine, l'amore tutto sopporta, perché conduce a una resistenza attiva, a una resistenza forte nei confronti di ogni contrarietà. Certamente non mancano nella famiglia dolori, lutti, malattie, contrarietà, difficoltà, prove di ogni genere. Qui il Papa cita una bellissima frase di Martin Luther King, il quale fu certamente il grande maestro insieme a Gandhi in India, Luther King invece lottò per la liberazione degli afroamericani, cioè degli americani di colore e lottò propugnando la non violenza. Luther King diceva, odio per odio intensifica solo l'esistenza dell'odio e del male. Se io ti colpisco e tu mi colpisci e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo e così di seguito è evidente che si continua all'infinito, semplicemente non finisce mai. Da qualche parte qualcuno deve avere un po' di buonsenso e quella è la persona forte. La persona forte è la persona capace di spezzare la catena dell'odio, la catena del male. Questo quarto capitolo che si apre, dicevo, con questa parafrasi dell'inno Paolino alla carità, si chiude dicendo, non si chiude il quarto capitolo, si chiude questa parafrasi dell'inno alla carità, sottolineando che quando il matrimonio è capace di modularsi secondo le indicazioni dell'inno alla carità di San Paolo, il matrimonio diventa una icona dell'amore di Dio, perché Dio si rispecchia negli sposi, scrive il Papa, e imprime in loro i propri lineamenti, il carattere indelebile del suo amore. Ecco, possiamo concludere qui questa sesta puntata delle nostre trasmissioni e certamente continueremo l'analisi di questo ricchissimo quarto capitolo nella puntata successiva. Un saluto a tutti voi.